amici di lecco fm siamo in collegamento con Ilaria Colombo collegamento telefonico giovane lecchese che si è recata con la famiglia in portogallo allora per il ritorno niente siamo tornati tranquilli siamo arrivati qua a orio a stereo l'aeroporto si sono atterrati a orio a bergamo a bergamo e niente siamo scesi ci hanno fatto il termoscanner penso un medico che ci faceva ognuno il termoscanner per vedere se abbiamo la febbre quindi in ingresso in ingresso in lombardia c'era questo questo controllo questa precauzione però mi dicevi anche nel fuorionda che c'è la situazione spettrale nel senso che anche sul sull'aereo voi eravate distanziati e poi comunque a rientrare qui in italia l'aeroporto di orio ha un sacco di voli cancellati e poi oltre ai voli cancellati proprio tanta gente non c'è nel senso l'aeroporto era quasi vuoto e anche appunto sull'aereo era quasi tutta e c'era pochissima gente che di solito sono pieni i voli della ryanair c'erano tantissimi posti vuoti ho capito ho capito però mi raccontavi anche che nonostante queste precauzioni cosa è successo cioè sui pulmini allora nonostante comunque queste precauzioni alla fine noi ci chiedevamo ma perché praticamente dall'aereo all'aeroporto c'è il peccettino di pulman che ti porta in aeroporto e lì la navetta quindi questa cosa insomma non va assolutamente bene si prendono tutte queste precauzioni ma poi invece sul pulminio eravate comunque tutti ammassati e quindi il rischio è ovviamente maggiore esatto questa era l'unica cosa che non era tanto il massimo poi comunque del resto tranquillo bene allora noi abbiamo sentito la testimonianza di Ilaria Colombo che è una lecchese che è andata recentemente in Portogallo questa è la situazione attuale per quanto riguarda i voli quindi lo ripetiamo l'aeroporto deserto il termoscanner quando si torna a Aorio però poi purtroppo sui pulmini tutti ammassati quindi non serve molto fare il termoscanner se poi comunque ci sono degli assembramenti grazie Ilaria per la tua testimonianza grazie a te